C'è una Sicilia che emigra, è quella dell'esodo demografico verso il nord Italia o verso l'estero. A questa risponde un'altra Sicilia, quella di chi resta e sceglie il sud per costruire e riversare le esperienze fatte altrove. Una nuova sfida che le vie dei tesori vuole affrontare attraverso il racconto delle storie di chi resta in Sicilia, all'interno del festival Genio di Palermo, costruito con l'università. Il progetto sarà presentato domani, 26 maggio alle 17.30 all'Osteri. Sulle note, ho scelto il sud, del cantautore Mario Incudine, talento della Sicilia, si alternano anche le storie di Pino Cuttaia, che dal Piemonte è tornato alla sua alicate e proprio attraverso la cucina si rende ambasciatore di gusto e tradizioni. O come Francesco Paolo Belvisi, che realizza scafi stampati in 3D, venendo premiato per il suo talento e per la capacità innovativa. C'è anche chi come Maurizio Spinello e il suo forno del borgo Santa Rita nel territorio di Caltanissetta riesce con tenacia a rimanere insieme alla sua famiglia ridando vita ad un luogo abbandonato. Un progetto che mette insieme 7.000 chilometri di percorso, 2.000 ore di filmati, 50 videointerviste. Ho scelto il sud, nasce dalle Viede Tesori con il supporto di Fondazione per il Sud, realizzato da Fuoririga, per raccontare il sud creativo-produttivo non assistito e quella Sicilia fatta di persone e luoghi da scoprire. Grazie per la visione!